Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! Hai capito ah? Sì sì Hai capito? Ma perché urli? Ma che cazzo urli? Ma sei scemo Ma sei scemo Ma che sei scemo Sei scemo tu Ma sei scemo tu e sordi hai capito? Ma che cazzo c'è al look non sta gente No lo so Ma dove andate eh? Andiamo a denunciare in polizia Ma sapete che stiamo in autostrada? Uuuuuddio PORCATROI Oddio signore Signo Signore 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 Oddio Che cazzo ti vuole Ma io vi cazzo Ma io vi cazzo l'abbascio poi No ho fatto un fuoco da girato Ho fatto E' male che la macchina è piccola e rimbombano le orecchie Che noi non ci pensiamo Facciamo tutto bene ragazzi Guarda quello che sta portato lui Cristiano St'ha portato St'ha portato lui Cristiano Per tutti Siamo fermi al 193 Aspettiamo che arrivi tutta la catena E poi partiamo con le posizioni che abbiamo stabilito Ok? Ma quale tazzo è la villina? Grazie pulce Sì Sì sicuro Speriamo che si Eh mi sa che stai in strada Eh perchè? Eeeh Mannaggia Gesuero Salve Salve Eh lo so devo comprare qualcosa qui all'import Oh non ti agitato ti spacca la cave capito? Ma è merda Ti spacca la cave capito? Pum Senti come parte la mattina mi sveglio e faccio Faccio anche una scorreggia Che mi sveglio ogni mattina e faccio No 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 3 2 1 Real Real RP Real Su Real Ragazzi andiamo Su Ok Eeeh Mettete Togliete la chat sulle moto per contesia Togliete la chat sulle moto Signore alza le mani Alza le mani criminale C'è avuto vi raggiungo Ammanettate il soggetto Sì Carica dentro l'auto Ma sempre lei Sempre lei Signor Fonsio Sì ma è sciolta Sciolta Sì Oddio 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 No Cioè Sì Buono il castetto Sempre lui Sempre lui Sempre lui Sì addio 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 abbracciate ma guarda questo è il massimo questo è il massimo addirittura eri mercati che regalano la sound equa vina piovere è di mercati che ha regalato un'altra sound attenzione scheggia sarà qualche tua ragazza che trovato quasi twitch è morto il generale come il generale è morto i generale è morto come cazzo si chiama come uguale è morto qualcuno ove è morto qualcuno a noi ci hanno detenzione Gabrielli si Gabrielli è morto oddio era così brava la tua persona Ma che cazzo dici? Che a me aveva messo un degrado di merda? E che? Non significa niente. Non significa un cazzo. No, no. Ma che cazzo vuoi vicendo? Non vuoi dalla pianta che vicino? Già vanno vicchia. Poverino. Bastardo, vado pulito le pagina. Ma che cazzo vuoi? Ma come è drossi? Mamma mia, mamma mia. Oh, buona buona, ma non fa... Ma che cazzo è rile? Ma che cazzo vuoi? Ma che cazzo vuoi? Ma che cazzo vuoi? Nooo, no, 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 no. Non è... Ah, grazie. Ok, arrivo. Ok, ciao, ciao, ciao. Successo qualcosa? Si, si, fatto, fatto. Non ho capito. Successo qualcosa? No, no. Ah, nel telefono. Nel telefono. Nel telefono, si. Allora... Banca? Sì. Allora, l'Iban è Roma, Empoli, 23, 19, 94. Ma come ti devi schifetto tutti? Mi devi dodici, vero? Ragazzi, non è possibile perché mi ha ucciso. I due erano per il... Ah, due. E' stato uno. Ecco qua. Sono arrivati? Io non ho barato. L'ho detto che ero un ex militare. Lei doveva stare... Cioè, ho visto che ho il locale 9 e mi hanno detto che... Ma non la vedo, non la vedo io. Mi vede? No. Mi sa che ho un problema vostro direttore. Ok, attualmente... Ah, adesso sì. Oddio! Ma porco Dio! Ma che cazzo è successo? Signore! Santo Dio! Santo che sta in cielo, ok? Se ci credete! Non mi ho scassato! Spaccimmo la cazza! Ok? Se non va, va buona! Se lo sfacci in mezzo qua! Porca cazzo la puttana! Ok? Se ne avviva bene! Uccide! Dalla live! FIFO! Non cazzo, se non volete... Dalla tagliere! Dalla tagliere la tua mossa! Dai, chieda mai! Vai, vai! Vado senza dire niente! Vado, senza dire niente! Vado, senza dire niente! Vado, senza dire niente! Vado! 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 Alteniamo, se li ho abbassati a noi! Questa perché non voglio spararla! Andiamo a fare un posto di blocco! No, a quest'ora! Eh, vabbè! Non lo so che dite! Deeeeh! Eh, proviamo! Senti, può pure provare però! Sì, siete voi lì più oltre in grado! Lascio a voi la decisione! Mi astengo! No, però siccome siamo solo noi non possiamo fare il supporto, eh! Ma che cazzo è successo?! Ma che cazzo è successo?! Pro, stanno tutti quanti qua! Oddio! Il fatto è che io non li vedo! E' tornato a ogni server! Un attimo! Oddio! Che schifo! Oddio! Mi sono cagato sotto! Oddio! 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 vestito tutto di nero. Ah, io un carabiniere ovunque. Ok, ok. RIP